3, 4... Si chiama Body Percussion e consiste nell'uso del corpo come un vero e proprio strumento musicale. È al centro di alcune lezioni di un corso rivolto agli educatori dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia organizzato dall'associazione Formiamoci e finanziato da un bando della regione mulise. Un processo di crescita anche per un educatore maturo e quindi alla continua ricerca di nuovi stimoli, nuovi bagagli, nuovi strumenti per la propria professione ma anche per la propria persona. Il corso coinvolge due scuole dell'infanzia e otto asili nido privati autorizzati. Si stanno formando 40 educatori che ne traggono vari benefici. È il corpo il primo strumento con il quale noi entriamo in relazione con l'altro. Per cui utilizzarlo non necessariamente facendo dei suoni strutturati ma anche semplicemente pochi suoni che però ci permettono attraverso il movimento, attraverso il gesto e anche la mimica gestuale, quindi il discorso non verbale, ci dà la possibilità appunto di comunicare, semplicemente comunicare però in maniera creativa e musicale. Il maestro ci ha insegnato che per entrare nell'ambito dell'infanzia bisogna divertirsi e trasmettere, perché se non ti diverti non puoi trasmettere nulla al bambino. Per cui quello che noi speriamo di riportare poi a casa è l'entusiasmo. L'entusiasmo è contagioso e sicuramente il maestro Salvo ci ha entusiasmati. Lo scopo è garantire a chi del bambino si prende cura un luogo protetto dove poter stare a contatto con la propria emotività senza sentirsi giudicato e avere una guida che possa aiutarlo a tracciare un sentiero di serenità.